Attendono i sindaci che l'ASPA pronti una relazione con la quale città per città sancisca il livello di positività, la curva dei contagi e soprattutto la popolazione scolastica che al momento ha preso il virus. Un lavoro che è propedeutico alla richiesta dei sindaci di chiusura che dovrebbe concludersi se la relazione effettivamente fotograferà la curva in ascesa ed il numero degli studenti contagiati che deve superare alcuni parametri. I sindaci sono stati stoppati dal prolungamento dei giorni di vacanza fino a mercoledì, decisione del governo regionale. Intanto Caltanissetta in zona arancione come gele altri comuni siciliani, ma la zona arancione a differenza di prima con il nuovo decreto governativo non presuppone la chiusura delle scuole Tucur. La nuova strada è quella della relazione, dell'assunzione di responsabilità da parte dello SPEMP, l'ufficio tracciamento dell'ASP, dell'effettivo stato di emergenza. E' certo che i numeri parlano chiaro, non ci sarebbe molto da dire. In tutto ciò la scelta di mettere in zona arancione alcune città da parte della regione per dar loro la possibilità di chiudere le scuole è stata vana. Perché ai dirigenti regionali è sfuggita la nuova norma che non prevede la chiusura delle scuole in zona arancione, provvedimento quindi illegittimo da rifare. E se da un lato rifare un provvedimento per i super burocrati regionali strapagati non è nulla, dall'altro i sindaci sembrano essere dinnanzi ad un semafono in attesa che scatti il verde. Intanto il sindaco che ha scelto di imperio di chiudere le scuole è stato Cateno De Luga, sindaco di Messina, ma il provvedimento è impugnabile quindi nullo.